I carabinieri guidati dal capitano Emanuele Corda hanno effettuato varie operazioni nel territorio del Vallo di Diano. A Monte San Giacomo, dopo un controllo con il supporto delle agenzie dei monopoli di Stato di Salerno, è stato denunciato il proprietario di un bar. Effettuava l'esercizio di scommesse senza la prescritta autorizzazione. Salate le sanzioni amministrative e combinata al commerciante, per un importo pari a 22.000 euro. I militari hanno sequestrato i PC utilizzati per le giocate. A sala i carabinieri hanno invece sorpreso un giovane con 5 grammi di marijuana, posta sotto sequestro. Al ragazzo è stata ritirata la patente. I militari hanno sottoposto ad accertamento etilometrico circa 30 giovani, risultati negativi ed elevato 20 multe per mancato uso della cintura, eccesso di velocità con decurtamento di punti dalla patente.